Visto che siete in tante a chiedermi come funziona il test online dell'armocromia, ho pensato di farvi un breve video dove vi spiego bene come funziona e cosa serve. Spesso mi chiedete quali sono gli strumenti che servono per fare l'analisi di armocromia, vi faccio vedere. In primis i drappi per andare ad analizzare il sottotono, quindi per capire se avete un sottotono caldo piuttosto che un sottotono freddo. E poi, eccoli qua, il mio malloppone di drappi. Ragazzi, ognuno di questi sappiate che rappresenta una particolare stagione e un sottogruppo. Guardate quanti sono. Spesso si dice, ma a me piace il rosso. Guardate quanti rossi e pensate che ognuno di questi rossi rappresenta una stagione. E poi, so che questa parte mi piace tantissimo, ci sono le cornici. Le cornici sono la prova del 9. La domanda che spesso mi fate è, c'è differenza tra farlo in presenza o farlo online? Beh, allora sicuramente fatto in presenza c'è anche l'aspetto emozionale. Invece se siete distanti o se avete poco tempo, beh ecco, farlo online è la soluzione più veloce e ottimale per voi. Altra domanda che mi fate è se il testo online funziona. Allora, assolutamente sì, purché venga fatto bene. Ho portato tutti i drappi che vedete qua in digitale senza alterarne il colore. La cosa importante che dovete fare voi, e questo vi chiedo di essere super precise, è quello di fare una foto posizionate davanti ad una finestra, quindi non con la finestra di lato, ok? problema frontale, struccate con i capelli non davanti al viso ma portati dietro le orecchie, con la luce della mattina. Allora, perché la luce della mattina? Perché le luci, ad esempio, del tramonto vanno a creare una luce gialla, quindi questa luce gialla è come se voi mettessero un filtro, quindi mi va a cambiare il sottotono e il sovratono. Poi, altra cosa importante, dovete guardare in camera, quindi il telefono ben davanti ai vostri occhi e guardate dritti nell'obiettivo, quindi non una foto che vi vedo dal basso, non una foto che vi vedo dall'alto o laterale, insomma, ben frontali davanti alla camera. Poi, come ultima cosa, vi manderò un questionario e anche qua vi chiedo di essere super precisi nelle risposte, perché sarà fondamentale per me per fare la vostra analisi. Una volta che ho ricevuto il questionario, andrò a fare l'analisi delle vostre caratteristiche, porterò le vostre foto in digitale e così come si fa in presenza, andrò a fare tutti gli stessi passaggi, quindi inizierò a capire qual è il vostro sottotono, quindi se è caldo, se è freddo, poi a quale stagione appartenete e infine andrò a scoprire e a svelarvi qual è il vostro sottogruppo. Finita la vostra analisi, preparerò il pdf con la vostra presentazione completa e con tutti i miei consigli, quindi per quanto riguarda, per sé, l'avvigliamento, ma anche il make-up, la tinta, ragazzi, fondamentale, questo passaggio ve lo dico tra parentesi, una tinta sbagliata, così come una tinta giusta, ha la capacità di valorizzare o veramente penalizzare il volto, quindi dà veramente poca luce o più luce a seconda del colore che scegliete. E ahimè, purtroppo, a volte vedo tantissime ragazze che sbagliano il colore della tinta, perché? Perché a volte ci piace tantissimo, lo so, un particolare biondo che ahimè non c'entra niente con la nostra stagione, ok? Dicevo, quindi, capelli, tinta, gioielli, quindi accessori. Io sono Veroni Viganotti, make-up artist, hair stylist ed esperta in ermocromia. Qua trovate il numero per poter prenotare la vostra consulenza. Se avete domande o informazioni, beh, non esitate a contattarmi. Ciao, a presto!